Dopo quattro giorni di eventi, la ventunesima edizione di Comic-Con si è conclusa con 160.000 visitatori, record di presenze per il festival che ha accolto 300 ospiti, 500 eventi tra fumetti, cinema, serie tv, videogiochi, giochi di ruolo e performance live, oltre 350 espositori per un'area di più di 85.000 metri quadri. Comic-Con ha proposto un programma ricco di contenuti, dai grandi autori del fumetto italiano e internazionale agli ospiti di cinema e serie tv. Il pubblico ha potuto visitare 26 mostre, 15 all'interno della mostra d'oltremare nei giorni di festival e 11 nella rassegna Comic-Con Off, tra cui la mostra Corto Maltese e un viaggio straordinario al Museo archeologico di Napoli, aperta fino al 9 settembre. La sezione serie tv e cinema ha ospitato 20 proiezioni. Il premio Micheluzzi come miglior fumetto è stato assegnato a Super Relax di Dottor Pira. Il 67% del pubblico è arrivato a fuorigrotta da fuori Napoli, principalmente dal resto della campagna, da Lazio, Puglia, Calabria, Lombardia e dall'estero. Appuntamento alla ventiduesima edizione, che si terrà a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2020.